Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TVC, in apertura la cronaca. Parliamo dell'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato un patrimonio da 17 milioni ad un appartenente al clan Mallardo. Spazio poi all'aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, il quadro migliora. Crollo invece dei vaccinati con una diminuzione del 41% nelle ultime settimane, lo rivela un'analisi della Fondazione Gimbe. Ancora caos circunvesuviana, i comitati denunciano Eav e Regione Campania. In chiusura torniamo a Torre del Greco per occuparci nuovamente dei lavori di riqualificazione a Via Falanga. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Il nucleo di polizia economico-finanziare della Guardia di Finanza di Napoli ha proceduto, su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, alla confisca tra Campania e Lazio di un ingente patrimonio del valore di 17 milioni di euro, riconducibili a Michele Palumbo, nato a Villa Ricca nel 1952, appartenente a clan Mallardo. Le Fiamme Gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato 17 unità abitative tra i comuni di Giuliano, Aversa, Mentana e Monte Rotondo, 11 terreni nel comune di Mentana, oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore immobiliare, con sede a Fonte Nuova, riconducibile al prevenuto e al suo nucleo familiare. L'attività trae origine da indagini delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ed eseguite dagli specialisti del Gico Partenopeo che hanno eseguito nel periodo tra il 2010 e il 2021 diversi provvedimenti di sequestro preventivo e di misure di prevenzione patrimoniale disposti dai Tribunali di Roma e Napoli nei confronti tra gli altri del Palumbo. In questo contesto criminale, come evidenziato in sentenze dello stesso Tribunale di Napoli, il clan Mallardo ha investito i propri proventi leciti in attività immobiliari facendo di capo al Palumbo e ad una sua società operante nel settore edile. Il sodalizio era stato favorito dal genero del Palumbo, Giuseppe D'Alterio, esponente di rilievo del clan Mallardo, per conto del quale si interessava di diversi settori economici, di quali quell'edilizio immobiliare, nonché della distribuzione del caffè agli esercizi commerciali del Giulianese e del Casertano, ove acquisiva commesse anche in zone controllate da clan camoristici alleati, come il clan dei Casalesi. Il presupposto per l'applicazione dell'odierna misura di prevenzione patrimoniale deriva dall'accertata appartenenza del Palumbo al clan Mallardo, sancita da una condanna a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e scaturisce dagli accertamenti economico-patrimoniali effettuati dalle fiamme gialle. Infatti il monitoraggio effettuato dal GICO di Napoli ha fatto emergere, grazie ai riscontri sviluppati anche attraverso l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e agli accertamenti bancari, una marcata sproporzione tra le fonti di reddito lecite in cui il soggetto disponeva ufficialmente, e il patrimonio di meri mobili e immobili di rilevante valore negli anni accumulato. Calano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, si sono registrate 8 nuove guarigioni, certificati invece due casi di positività. Continua a montare dunque il bilancio dei contagiati, con 82 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Anche nel comune di Bosco Reale si è registrato un miglioramento dei dati precisamente nel periodo del 15 al 19 settembre. Gli attuali positivi sono diminuiti a 47, precedentemente erano 77, mentre non si sono registrati nuovi decessi. In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 222 tamponi, di cui 215 negativi e 7 positivi con un indice tamponi effettuati positivi del 3,15%. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state somministrate complessivamente 16.550 prime dosi di vaccino, 61% della popolazione, mentre 13.463, 49%, hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose. A Torre Annunziata sono 4 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore, a fronte di 144 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta a 2,77%. Al contempo si registrano 8 guarigioni, sono 48 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate, sino ad ora, sono 48.543. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.920, 60%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.623, il 73%. Crollo dei nuovi vaccinati, con una riduzione del 41% nelle ultime due settimane. Sono infatti poco più di 486.000 le prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre, a fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi. I più scettici restano gli over 50, a rilento anche le vaccinazioni nella fascia 12-19 anni. Lo rivela, secondo Fontianza, il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, fondazione che ha lo scopo di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, eco e universalistico. Intanto si registra un nuovo calo di casi di Covid-19, segnando meno 14,9% in una settimana, così come c'è un'ulteriore riduzione di ricoveri e terapie intensive. Stabili i decessi pari a 394 in una settimana, di cui 33 riferiti a periodi precedenti, sempre secondo l'analisi della Fondazione Gimbe relativa al periodo 15-21 settembre, che ribadisce però preoccupazioni per la ripresa del nuovo anno scolastico, considerato che con la variante Delta le attuali misure risultano insufficienti a limitare i contagi. Caos circunvesuviana. Partono le denunce alla Corte dei Conti. Nel mirino dei comitati finiscono Eav e Regione Campania dopo la soppressione delle corse e i tagli voluti dall'azienda nelle ultime settimane. L'obiettivo è quello di accertare se Eav e Regione Campania abbiano utilizzato razionalmente le risorse economiche destinate al servizio del trasporto pubblico della circunvesuviana. Un'azione che arriva dopo anni di lotta, di denunce pubbliche, di promesse mai mantenute, di disservizi e di annunci di migliorie subito smentiti e di miracoli mai avverati. E la voce dei comitati, di attese infinite di nuovi treni, di assistere ad assunzioni che hanno riguardato in gran parte figure professionali di quadri o amministrativi, lasciando vuoti in organico, di subire l'allungamento dei tempi di percorrenza, colpa di una rete ferroviaria obsoleta, di avere un'offerta di servizio pubblico che non prevede corse di mattina presto e più tardi la sera, di scelte aziendali approssimative, cause di continui disagi e precarietà del servizio, di vedere i vari responsabili di questi continui fallimenti continuare a ricoprire gli stessi incarichi. In assenza di risposte convincenti e di fronte a risultati sterili prodotti dall'azione politica in tutti questi anni, il gruppo Pendolari, no al taglio dei treni della Circonvesuviana, insieme al comitato civico Cifariello Ollus di Ottaviano, nell'intento di far luce sulla gestione di miliardi di euro di risorse pubbliche, denunciano alla Corte dei Conti, EAB e Regione Campania. Proseguono i lavori di riqualificazione a Via Falanga, nel cuore dell'area mercatale di Torre del Greco. L'angolo, alle spalle della centralissima piazza Santa Croce, che sarà abbellito, secondo i piani dell'amministrazione comunale, con panchine, fioriere e un albero d'olivo. Un'area per fermarsi ed intrattenersi, soprattutto pensata per gli anziani. Gli interventi, partiti a luglio, proseguono in queste settimane, senza arrecare disagio ai commercianti della zona e agli abituali frequentatori dell'area. I lavori, in particolare, prevedono la riqualificazione del manto stradale, le fognature ed elementi di arredo urbano. Prevista anche l'installazione di dissuasori e telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza in piazzetta. Interventi che, step by step, con lavori in corso nelle prime ore pomeridiane, dovrebbero terminare alla fine del mese di settembre. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.